Ciao ragazzi come va? Bene, grazie, bene. Allora, chi sono? Innanzitutto Gianni Drudi, personaggio televisivo formidabile, perché? Perché tra l'altro è quello che ha fatto la canzone straordinaria che è Fichi Fichi, che è, come si dice, l'obiettivo che abbiamo tutti noi. E sarebbe un obiettivo che abbiamo tutti. E poi naturalmente c'è Alan DJ che segue Gianni in molte tournée. Come va ragazzi? Chiedo prima Gianni, come va Gianni? Allora, oggi è scoppiata la primavera proprio qua da me, che ho i giardini di fiori, allora sono allergico con la primavera, quindi sono un po' sofferente di raffreddore, ma non è coronavirus, non è tranquillo, perché io sto attentissimo alla quarantena, sono a casa, non mi sono mosso, è otto giorni che non esco di casa. Ho fatto solamente un po' di giardinaggio, un po' di cose così, insomma le cose si fanno. Bravo Gianni, però la domanda la faccio anche ad Alain. Com'è difficile lavorare con Gianni Drudi, che conoscendolo è un personaggio particolare? Con Gianni, vabbè adesso non vale perché lui è qua, però io devo dire è una meraviglia, una meraviglia perché si lavora alla grande, si sta bene, si fa baracca, ma vabbè che dove c'è Gianni c'è baracca, non è che non può esserci Gianni senza la baracca, è un bambino. E quindi è bello, è bello e piacevole, poi come si dice, è bello e riduttivo, per capirlo bisogna viverlo, quindi tanti di suoi collaboratori in questo momento capiscono di cosa sto parlando, ecco. Grazie Alain, grazie. Allora ancora ti faccio lo spot, faccio vedere il nuovo disco di Alain, Fizz, con tutti i grandi successi, dalla isla a Moemette, a Chica Boom Boom, mi piace, come tecchiero, caliente. Caliente, abbiamo fatto un sacco di brani, abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Fit, l'album dei featuring, ovviamente è prodotto da Gianni Drudi, esecutiva e company, però con produzione principale Gianni Drudi è, abbiamo fatto questo nuovo album, l'album attuale è attualmente in buco, con tutti i successi compresi anche quelli insieme a Gianni Drudi. Ecco, una cosa al volo, Gianni è un romagnolo doc, la sua canzone simbolo è proprio da romagnolo, verace, proprio di quelli che sanno cos'è la vita, ma vogliono mettere al mare le distanze, è impossibile, cosa dici Gianni? Sì, tutto è possibile ormai, facciamo i paletti degli obrelloni, invece di metterli a due metri o tre metri, li mettono a cinque metri, sei metri, li stanziamo, ci vorranno più spiagge, ci staranno meno persone, però... Sì, ma voi romagnoli, che avete bisogno del contatto fisico ed anche erotico, dovrete poi soffrire. Faremo i concerti sugli scogli, faremo i paletti sugli scogli e la gente tutta in acqua a un metri di distanza, avremo il salvagente, la ciabellina, con mezzo metro di qua e mezzo metro di là, praticamente la distanza della ciabellina in acqua. A proposito, l'altro giorno c'era un mio amico Vagnino di Rimini, che lui è sempre in televisione, canale 5 e Rai 1, quando i giornalisti vengono in Romagna, vanno sempre a trovare lui, a invaglio 26, diceva, lui è ottimista, anche se non guadagneremo lo stesso, l'importante è aprire, fare un po' di baracca allo stesso al mare, ci divertiremo e passerà anche questo periodo brutto di coronavirus. Speriamo. Allora io ne approfitto. I romagnoli sono ottimisti. Bene, i romagnoli sono ottimisti e sono fantastici, però ne approfitto della vostra presenza perché io sono sicuro che Gianni ha una canzone per questo periodo, ce l'hai? Allora ho parlato di Bagnino, quindi parlo dedicato ai nostri Bagnini delle spiagge della Romagna in questo caso, Mister Bagnino che fisico che hai, Mister Bagnino tutte e tutte e tutte e tutte e tutte le fai, Mister Bagnino faccia da playboy, Mister Mirichino una lasciala per noi! Arriverà l'estate! Lasciala l'estate! Vabbè, allora Mister Bagnino ce l'abbiamo già in repertorio, un fichi fichi così al volo me lo fai? I fichi fichi abbiamo, guarda, questo qua è un cd degli anni, fine anni 90 perché in questo periodo sto facendo un po' la storia dei miei favolosi anni 90 dove ci sono tutte queste canzoni, non so se le vedete forse no. No, si vede poco, si vede poco. fichi 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 facciamo baracchi, bordo il pinguino, ciappalacchia lena, l'uccello, come bello lavarsi, buco un prao, tanto del culetto, Mister Bagnino, la pantera e naturalmente e la sabbia che scotta, mi sono presa una cosa, sotto il sole che abbronda, ho incontrato una cosa. Ehi, ci stai fichi 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 con me, facciamo fichi fichi insieme, dai dai. Ehi, ci stai fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, io e te. Grazie Gianni, allora, tanto deve essere un auspicio per tutti questo, eh, perché poi in tempo di coronavirus, hanno detto che finita sta bulasca, o ci saranno tanti divorzi o tanti figli? Sicuramente tanti figli, perché, oh, fate figli figli così l'Italia, che allora... Aspetta Gianni, stai calmo! Alen, allora tu sei, sei a, come si dice? Sono novello, no? Sei allenato, no? Sei allenato perché la tua bimba è bellissima, cresce bene. Ah, ne un altro, dai! Guarda, ho tutti i suoi giochi qua, guarda questa, questa qua è un regalo, ho fatto tutto a mano dal nostro amico collaboratore, Egno Bore. Grazie, salutiamo! Gianni, la sua moglie, guarda qua, ci tenevo a fare un sacco di regali, sono tutti molto fantastici. Angela, sta bene, sta bene, cresce bene, dai. Angela, sta bene! Allora, con Alen, insieme a Maximo Miusi, abbiamo fatto questo tormentone estivo 2020, che doveva essere, e sarà forse, non si serve, mela, banane e caffè, perché dopo i fichi, dopo tanti frutti, le prugne, sono arrivate le mele con i banani, e il caffè che l'italiano va a passo per il caffè. E quindi salutiamo anche il nostro amico Davide Prediato. Eh sì, Davide. Perché Davide è colui che ha fatto la versione karaoke di questo brano, e poi non solo, il nostro collaboratore per il Veneto ci sta aiutando nei tour, in tutto. è un collaboratore a tempo pieno, quindi lo salutiamo veramente. Davide, beh, grazie. Sarà inserita nella Ciringuito Compilation questo brano, noi siamo ottimisti, quindi le produzioni continuiamo a farle anche a distanza, adesso grazie a Inter riusciamo a cantare, a remixare, a fare tante cose, quindi Ciringuito con il Los Locos, mela, banane e caffè con la Landy J e Maximo Music, poi ci saranno altri ospiti, Bobbi Solo, ci sarà la versione nuova di Fiti Fili, cantata da una ragazza che non posso dire ancora, svelare niente, ci saranno tante belle cose. Ma tanto, con gasolina. Gasolina, bravo, e poi, e poi... E poi, non possiamo svelare tutto. Mela, mela, banane e caffè, e a rincagliano che muoverlo qui, o vedo cadere a un, due, tre. Mela, mela, banane e caffè, e a rincagliano che muoverlo qui, o vedo cadere a un, due, tre. Mamma, mamma, mi sta a campagnana, io voglio bevare tutto, e ripover l'amore, te amo, io chiedo tu, voglio coberlo con la frutta e la frutta, te amo. Wow, yeah, Gianni Drudi! Ragazzi, vi ringrazio, è sempre un piacere. Naturalmente, nella tournée voglio esserci anch'io, e ci sentiamo e ci vediamo. Certo, noi, noi ti aspettiamo, ti aspettiamo, ma soprattutto speriamo che questa emergenza finisca. Bravo! Anche perché Gianni è molto positivo, io anche, però, dopo un po' uno comincia un po' a, fra virgolette, a stancarsi. Basti, Gianni, lui ha fatto, poi ti lascio, ha fatto un CD, un disco, un album, dove dice, però lo presenta lui, leggete il titolo, leggete, leggete. Peccati non ne ho, faccio vedere un po' le produzioni, così salutiamo gli amici. Tolo Tolo Compilation! Poi abbiamo Stefania Cento! Poi abbiamo Sonidos! Wow, con Diego Gantè! E Diego Gantè! Poi abbiamo Kaman! Kaisitevas! E poi per i bambini abbiamo la Baby Dance! e poi alla fine abbiamo, vedi, abbiamo tutto, abbiamo tutto! Abbiamo Locuras! Se va male, io cercherò un lavoro alternativo. Se va male per Gianni, lo manderemo a fare le televentie, perché è perfetto. Ragazzi, vi saluto, è sempre un piacere stare con voi. Fichi fichi a tutti! Grazie, Andro! Ciao! State a casa e siate positivi e ottimisti! Viva la musica! Grazie! Ciao ragazzi! Ciao!